Romina! Hello? Arrivo! I forgot, I gotta get something. Yari! Naike! Naike! No! Tu mi devi raccontare che cos'è questo sesso tantrico e come si fa! Vuoi sapere del sesso tantrico? Sì! Però... Ti devi applicare, non è una cosa. Certo che mi applico. T'ho una bellissima sulla testa. Lui fa tutto. E tu non fai niente. Tu fai tutto. E lui non fa niente. Lui sale e tu scendi. Io scendo. Lui entra e tu ti espandi. Io non esco. Mai. Però alla fine l'energia ti travolge da dentro e sale dentro, esce e poi ritorna giù. Giù. E poi il resto viene da sempre. Ma se tu sei qua, no? Sì. E tipo lui sta qua. Sì. E tipo... Questo è il sesso tantrico? Questo è il sesso tantrico. Questo è il sesso tantrico. E' tutto molto più semplice. Lo stai facendo. Non pensare. Devi sentire una roba di... Non è questo. Io devo vedere. È questo. È questo. Da uno gira, capisci? Lo senti? Sì, lo sento. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Io lo sento che tu lo senti. Lo sto sentendo tantissimo. L'hai capito? L'ho capito? L'hai capito? L'hai capito? Amore, l'hai capito? Oddio, ti amo. Yari! L'ha capito! L'ho capito! L'ho capito! Ho il sesso tantrico! L'ho capito! L'ho capito! L'ho capito! L'ho capito! Boh, non ci ho capito niente!